Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dal titolo, facciamo un piccolo wrap-up di agosto e settembre. Sul mio canale facevo già qualcosa di simile, si trattava delle letture del mese, ma adesso vorrei farlo con una cadenza un pochino più lunga. Quindi prendo un arco di tempo, in questo caso agosto e settembre, che sono stati due mesi in cui io non ho assolutamente pubblicato contenuti online, e vi mostro tutti quei libri che mi sono finiti sotto le mani, per un motivo o per un altro. Ovviamente, proprio per la quantità dei libri e la premessa, in realtà dei libri stessi, delle singole letture, si parlerà in modo abbastanza ristretto, perché io non ritengo che io sarei in grado di fare una recensione abbastanza interessante e abbastanza ampia da fare un vero e proprio video. Io ho strutturato questo video seguendo, diciamo, concentrandoci su tre punti. Il primo sono i libri che ho acquistato in questi due mesi. Sono solo due, sono stata molto brava. Il primo è Christine di Stephen King. Se mi conoscete da un po' lo sapete. Adoro Stephen King. Pian piano sto leggendo tutto. Il prossimo libro che avrei dovuto leggere è The Stand. Ve lo farei vedere. Il problema è che, non so se si vede in camera, ma è questo libro qui. Quindi per ora rimarrà lì. Comunque, avrei voluto leggere L'ombra dello scorpione, appunto The Stand, quest'estate. Ho puntato poi a leggere molte altre cose e quindi per ora non l'ho ancora letto, ma sto per iniziarlo perché sta iniziando a venirmi voglia. Il motivo per cui ho comprato Christine è molto semplice. Ogni volta che mi capita in generale di voler leggere un libro di Stephen King, l'ho acquisto. Non avevo mai trovato Christine in un negozio fisico. Ovviamente ne conoscevo l'esistenza, so anche che esiste un film abbastanza famoso, io non l'ho mai visto. E quindi, quando ci sarà la recensione, a quel punto vedrò il film e poi ne parleremo. L'altro che ho acquistato è stato Miti del Nord di Neil Gaiman. Probabilmente l'autore vi farà tornare in mente qualcosa, magari un sentito. Dici, ma forse l'ho già sentito. Ed è perché è lo scrittore di Coraline. E questa volta, in realtà ovviamente non ha scritto solo questo, ma si è cimentato nella scrittura romanzata di alcuni miti nordici. Io sono abbastanza un'appassionata. Ho anche questo, i miti nordici. Io l'ho sempre visto come il libro maggiormente consigliato. Ora, in tutta onestà, io non l'ho mai finito. Quindi non vi so dire se concretamente è il migliore o è semplicemente il più popolare. Però vi dico che è un testo un po' impegnativo, però molto molto interessante. I miti nordici a me hanno sempre estremamente incuriosito. Ricordo anche nel periodo dell'uscita dei nuovi God of War, della nuova serie di God of War. E non sarà la prima volta che lo citeremo in questo video. Legati ai miti nordici, io per l'occasione mi sono studiata un po' di argomenti, nonostante io non abbia giocato i giochi e abbia guardato dei walkthrough online. Però è proprio, secondo me, tra le varie mitologie da adulta, è la mitologia che più mi ha affascinato per intero, ecco. Adesso volevo parlarvi di tre libri che io ho iniziato, ma per un motivo o per un altro non ho finito, le ho proprio abbandonati, però comunque ci tenevo a dirvi anche il motivo per cui le ho abbandonati. Quindi per me magari non sono una lettura che io farò a breve, o magari non la farò mai, però per altri possono essere carini. Il primo è V13 di Carrère. Questo è uscito quest'anno. Era tra i finalisti del premio strega, che è comunque uno dei premi più prestigiosi in Italia in ambito di letteratura. Diciamo che raccoglie e rielabora, quindi aggiungendo dettagli, una serie di articoli, mi sembra, che aveva scritto Carrère nel periodo degli attentati in Francia, del 2015-2016, in particolare quello del Bataclan. Carrère ci racconta proprio nelle prime pagine di essere andato tutti i giorni a tutte le udienze. Quindi noi seguiamo questo suo viaggio, anche all'interno di queste storie. Non si tratta di un romanzo, l'ho iniziato, non sono riuscita a finirlo, perché non riuscivo a non... genuinamente non riuscivo a non piangere. Cioè ha rievocato in me delle sensazioni che per me non sono felici, e quindi l'ho lasciato perdere. Quindi anche se non leggete magari tantissimo, però vi interessa l'argomento, secondo me è ottimo ed è molto completo. Il secondo testo, un insieme di racconti di Edgar Allan Poe. Ora, la caratteristica di questo, come vedete, è già un'edizione palesemente vissuta, ma dovrebbe essere un'edizione esattamente del 90, ed è un'edizione in inglese. Il problema principale è non solo che già normalmente Poe ha un modo di scrivere molto criptico, ok? Già tradotti in italiano, comunque alle volte c'è un pochino ti perdi. Non in tutte le storie, non sempre, non è che ti perdi che non capisci niente, come se non capissi la lingua. Però diciamo che ovviamente aveva uno stile di scrittura un pochino più criptico, quindi in inglese già c'è questa difficoltà aggiuntiva. Inoltre, qui fondamentalmente non è un traduttore, è un dizionario, quindi ti dà la parolina in inglese e ti dà la definizione. Alle volte, le definizioni sono anche più complicate della parola stessa. Proprio per come è strutturato, fai fatica a trovare subito la parola che ti serve. Quindi per questo l'ho iniziato, l'ho interrotto, ho detto vabbè, senti, lasciam perdere. Il terzo libro che ho iniziato e non ho finito, ma nemmeno lontanamente, è stato Aragorn, che è il primo libro di una saga, mi sembra di quattro libri, dovrebbe essere. Penso che tutti conosciamo indicativamente il film, ok? Bene o male, almeno una volta in tele l'abbiamo visto, e ok. A me il film non è mai piaciuto tantissimo. Allo stesso tempo, io non sono nemmeno una particolare fan dei fantasy, cioè di fantasy diciamo un pochino più classici. Per questo quasi mi son detta, senti, proviamo a leggere il libro. Una caratteristica estremamente interessante è che l'autore ha scritto questo libro quando aveva 14-15 anni e lo ha pubblicato quando non aveva 21. E non lo intendo assolutamente in un'accezione negativa, però si sente che è scritto da un ragazzino. Mi spiego meglio. Quando si fanno i temi, no? Con le storie, devi raccontare una storia da piccolo a scuola, ti viene sempre detto che ogni cosa, ogni azione, ogni personaggio, deve avere la sua descrizione. E però non devi fare una descrizione super lunga, devi aggiungere degli aggettivi. Tendevano sempre appunto a farci scrivere in un modo molto più ricco. E secondo me questo si perde quando effettivamente cresci e poi inizi a scrivere per conto tuo. Questa scrittura invece è proprio così ed è una, da un certo punto, una ventata d'aria fresca perché è difficile leggere testi così, che comunque descrivono, ma allo stesso tempo non appesantiscono la storia, la pagina stessa, il periodo che stai leggendo. Però allo stesso tempo è una scrittura di fatto un po' classica, un po' nella sua scatola base, un po' di default. Io credo sia proprio la scrittura che si aspettano le persone che non leggono tantissimo. Cioè una scrittura comunque con tanti aggettivi, tante descrizioni, eccetera, che non avviene, siamo onesti, non avviene. L'ho interrotto semplicemente perché mi sono accorta che non è per me il momento giusto di leggere un mattone di un genere che non mi piace tantissimo, di una storia che non mi ha mai coinvolto particolarmente. Sono comunque molto curiosa e indubbiamente arriverò ad un punto nella mia vita in cui lo leggerò. Adesso però arriviamo ai libri che ho letto. La storia segreta di una contessa irlandese. Questo l'ho letto anche un pochino mentre ero a lavoro, tipo la mattina, presto, appena arrivata a lavoro che non c'era ancora nessuno. Si tratta di un racconto breve di Le Fanon. E tra l'altro io vi do questo consiglio. È un video che vorrei scrivere e preparare, però so di non avere abbastanza esperienza per poter fare un video attualmente. Ma se voi volete leggere dei testi, anche relativamente brevi, diciamo anche come scrittura un pochino più classica, nel genere dell'horror, e soprattutto volete leggere di un autore uomo che ha una dolcezza, una delicatezza, una umanità. Nello scrivere di donne leggete Le Fanon. Noi sul canale lo conosciamo anche per Carmilla in cui ho fatto tra l'altro sempre commenti legati anche ai personaggi femminili. Le Fanon è incredibile. Il signor Joseph io bacerei in bocca. Bellissima storia, racconto breve, estremamente sottile, tra l'altro un formato molto piccolo, leggetelo, molto carino. E la storia di questa ragazza, essendo che suo padre muore, lei va a vivere con lo zio, che però è sempre stato uno zio un po' strano. Tutti dicevano che lo zio era un po' una persona poco affidabile, che questa ragazza una volta arrivata sarebbe stata uccisa dallo zio perché lui voleva l'eredità, però il padre ovviamente si fidava a tal punto da mandarla allo zio. E ovviamente c'è una storia un po' horror, un po' di suspense, qualcosa succede. Incredibile. Veramente, veramente bella. Qui ritorna la citazione che abbiamo fatto prima perché ho letto il primo volume di God of War del fumetto. Ora mi direte magari chi ha capitato di averli letti, di averli visti, ma Andrea, ma non è il primo. È il primo della nuova saga, cioè God of War con i due titoli recenti legati appunto alla mitologia non rena ha fondamente creato una nuova saga, tra virgolette, una nuova linea temporale di Kratos. e quindi sono molto interessanti perché secondo me daranno un'idea aggiuntiva a livello di trama di quello che noi abbiamo già nel videogioco ma senza riprendere il videogioco, cioè non sono trasposizioni del videogioco fatte a fumetto, è un volume comunque molto molto carino, ha colori, veramente interessante. Il terzo e quarto libro che ho letto durante agosto e settembre, qui siamo ancora ad agosto, sono i due che vi ho recensito, le due recensioni che ho pubblicato fino ad ora da rientro, quindi non mi soffermo, il primo è il saggio Perché dormiamo e il secondo è il romanzo Fabricante di lacrime, anche se la recensione sono all'opposto, cioè primo ho pubblicato Fabricante di lacrime e poi Perché dormiamo. Fabricante di lacrime è un po' un titolo particolare, quindi non mi sento di consigliarvelo adesso così su due piedi, vi dico date un'occhiatina anche veloce alla recensione perché ci sono secondo me delle premesse che devono essere fatte dal mio punto di vista. Perché dormiamo è un saggio estremamente interessante sul mondo, diciamo, sull'argomento del sonno, ovviamente dare informazioni e nozioni cercando di rimanere senza il minimo pregiudizio e io vi consiglio assolutamente di leggerlo. Se volete saperne di più c'è la recensione. Poi ho letto Il Vecchio e il Mare riprendendo un po' il mio buon proposito di leggere qualche classico in più quest'anno e ho letto Il Vecchio e il Mare perché è stato uno di quei classici che vengono sempre suggeriti come letture alle scuole che però a me non è mai stato nemmeno citato, io non ho nemmeno studiato, nemmeno mai sentito parlare dell'autore. Quindi l'ho letto per curiosità è un testo molto lento, è una scrittura molto calma, molto lenta che rispetta fondamentalmente quello che vedi perché è la storia appunto di questo vecchio che fa tantissima fatica a pescare, non riesce mai a pescare niente nonostante lui sia effettivamente un pescatore e finisce per allontanarsi per giorni perché rimane attaccato al suo amo un pesce gigante. Nonostante tutto mi sembra un classico interessante, sicuramente è uno di quei classici che consigliano a scuola e che fanno passare la voglia ai giovani di leggere perché siamo onesti, i classici sono importanti bla 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 per tantissimi anni su questo canale voi mi avete visto che ho avuto una repulsione vera e propria nei confronti dei classici tant'è vero che Dracula di Bram Stoker di Ford Coppola è uno dei miei film preferiti io non ho mai finito di leggere il romanzo perché me l'hanno fatto odiare l'idea di leggere i classici me l'hanno fatta veramente diciamo un po' ho fatto venire la nausea a scuola con insegnanti che non erano in grado gli insegnanti che erano in grado di fare il loro lavoro secondo me non mi hanno mai consigliato dei classici così mattoncioni o comunque così pesanti questo è un ottimo libro ma secondo me non è un libro adatto per una scolaresca perché non ne capirebbero prima di tutto il clima tra l'altro siamo anche in un contesto sociale completamente cioè i giovani di Milano che cavolo gliene frega di un vecchio pescatore e poi perché alcuni libri secondo me bisogna leggerli perché si vuole leggerli e li si trova interessanti non per scuola per scuola ti dovrebbero dare dei libri che se non altro sono libri che leggi diciamo abbastanza sciolti abbastanza fluidi nella loro lettura poi abbiamo La festa di nozze di Fitzgerald noi di Fitzgerald avevamo letto Benjamin Button si tratta anche qui di un racconto quindi molto molto sottile è la storia di questo ragazzo che ha questa ex fidanzata in mente si sono lasciati lei si è messa con un altro e dopo tanto tempo nonostante a lui non sia ancora fondamentalmente passata lei lo invita al matrimonio al ricevimento appunto alla festa di nozze e ovviamente questo ragazzo impazzisce e cerca in tutti i modi di separare la sua ex fidanzata il suo grande amore da questo nuovo marito il protagonista si chiama Michael e mi spezza il cuore è un cuoricino è un patatino è un cucciolo mi ricorda me per tanto tempo perché anche io ho vissuto una separazione molto molto sofferente ho impiegato davvero tanto tempo ho impiegato anni a superarla quasi due anni è una storia estremamente reale nei sentimenti anche nella pazzia che lui ha alcuni momenti perché dice adesso li faccio separare così lei torna da me non funziona così purtroppo cioè ve lo dico anche a voi in caso non lo sapeste non funziona così una cosa che ho notato sia soprattutto con la festa di nozze ma anche con Benjamin Button è che Fitzgerald ha una scrittura molto innocente e in generale è proprio una scrittura molto sensibile e quindi devo dire che a me non dispiace affatto poi ho letto Volage si tratta di una graphic novel ambientata all'inferno il nostro protagonista viene mandato all'inferno e cerca di scappare intanto che noi diciamo lo conosciamo anche un pochino meglio ci vengono date alcune informazioni sia su di lui che su altri personaggi che lo incontrerà a livello di trama è una trama un po' raffazzonata è poco sensato i colpi di scena sì cioè sono sensati per la storia ma non ha senso tutto il resto però diciamo che nelle graphic novel la trama lascia un po' il tempo che trova nel senso importante ovviamente ma io una graphic novel magari la vado a preferire o vado a leggerla invece di un romanzo perché ciò che mi interessa principalmente è l'ambito visivo le facce dei personaggi sono degli incubi incubi sono terrificanti e anche questa questo essere fatato che non si capisce bene che vediamo in copertina all'interno ha letteralmente una forma del viso diversa cioè molto più cicciotta al viso non ha dei lineamenti così ben definiti in alcune pagine troviamo anche delle pose sbagliate io mi sono segnata pagina 8 ah sì nella quale vediamo queste gambe io non so se si vedrà nel caso vi metto la foto però vediamo le gambe del nostro protagonista che sono in una posizione che non è proprio molto umana io ho capito che se all'inferno però se io provassi a mettere le gambe così probabilmente mi si spezzerebbe tutto il busto la gamba il braccio tutto è proprio una posa strana che poi anatomicamente magari sia giusta o meno io questo non lo so perché non ho ben capito cosa voleva cosa doveva essere la posa però a parte quella è proprio brutta la struttura dell'inferno invece proprio a livello sia grafico che strutturale appunto a livello di trama è estremamente raffazzonato ma è molto molto carina quindi vi dico se volete leggerlo per completezza perché boh vi piace l'ambito dell'inferno volete leggere qualcosa legato bene altrimenti assolutamente no io non mi sento di consigliarvelo poi ovviamente dovete fare quello che voi credete più giusto poi ho letto potete baciare la sposa di Lisa Bern che è un romanzo rosa ambientato boh nel 1800 cioè solito diciamo con i cavalieri no tipo orgo e pregiudizio più o meno quel periodo lì più o meno diciamo i concetti di base molto simili ed è un romanzo rosa puro fa parte di una saga o meglio una serie più che una saga perché credo che da un volume all'altro diciamo che sia più che altro seguire la casata quindi nel primo volume tu vedi una coppia nel secondo magari vedi figli per dire la figlia quello che può essere io ho letto qualche rosa di questo tipo e come mi è capitato anche già di dire con i rosa faccio fatica a livello di trama cioè faccio fatica a trovare delle trame effettivamente interessanti soprattutto in italiano perché in inglese ne trovo veramente tantissimi poi però per una questione di costi o perché fisicamente non posso averli lascio perdere questo è sicuramente intrattenente sicuramente un po' più classico appunto è intrattenente è una lettura che io in generale se vi piacciono i rosa se volete provare qualcosa di un po' leggero eccetera ve lo consiglio però concretamente boh poi ho letto Il Corvo di Mario Lodi io di Mario Lodi tra l'altro avevo letto CP non ho avuto mai l'occasione di parlarvene ma io mi sento di consigliarvelo insieme a Il Corvo CP è centomila volte più conosciuto e anche più reperibile Il Corvo un po' di meno ho fatto fatica a trovarlo anche in biblioteca la prima edizione è del 71 ed è dagli 11 ai 13 anni come età di lettura me lo sono segnata perché secondo me è importante si tratta della storia di un ragazzino fondamentalmente che deve partecipare alla guerra del 43-44 la notte prima avendo una febbre diciamo che percorre alcuni episodi della sua vita e poi lo vediamo in guerra è estremamente interessante è incredibile rispetto a CP che però è anche per un pubblico molto più piccolo ci tengo a precisare ha una delicatezza e allo stesso tempo una scrittura cruda Mario Lodi che è incredibile tra l'altro è stato un uomo molto molto importante secondo me e devo essere onesta questo tipo di libri dovrebbero farli leggere molto di più se siete adulti vi dico secondo me da adulto vi dico il corvo perché CP è veramente per piccoli e utilizza delle metafore utilizza la metafora di uccellini però è una è una metafora per la guerra nonostante sia comunque crudo cioè mi ricordo che noi vediamo un carciatore un contadino che spara e ammazza alcuni di questi uccellini ed è per una facilità ancora più bassa di questo vi dico leggete il corvo secondo me è veramente un bel libro e sempre per rimanere su un tema molto molto soft lettere di condannati a morte della resistenza italiana queste sono lettere che sono indicativamente a livello temporale raccolte tra il 43 e il 45 per ciascuno ci vengono date dove è possibile il nome della persona gli anni una breve biografia per quanto ovviamente si sappia e la lettera che hanno scritto la o le lettere che hanno scritto prima di essere di appunto di subire la condanna a morte l'esecuzione della loro condanna a morte si tratta ovviamente di partigiani e alcune di queste lettere sono estremamente toccanti in un modo più subdolo rispetto ad altre cioè penso che tutte in generale se si tratta una persona come me che quindi tende a sentirle tanto emozioni anche di cose che concretamente non ha vissuto io ho avuto la grande fortuna come ovviamente la mia generazione di non aver vissuto in passato e di non vivere nemmeno adesso direttamente una guerra perché purtroppo adesso c'è una guerra in corso e ce ne sono state tante nel corso degli anni ma noi italiani per fortuna queste più recenti non le abbiamo mai vissute in prima persona quindi è ovvio che io non mi possa immedesimare né riprendere questa sofferenza come mia credo che la cultura della memoria e il turismo della memoria siano fondamentali per tutto il discorso educativo sia soprattutto per anche la crescita personale cioè l'ammettere a se stessi che alcune cose nella vita sono successe e proprio il fatto che noi possiamo anche solo impararle e non viverle significa che non ci dobbiamo tirare indietro secondo me poi ho letto Rat God si tratta di un fumetto si tratta di una miniserie in particolare quindi erano usciti inizialmente come volumetti separati e poi è stata fatta un'edizione riepilogativa in cui li ha messi tutti insieme di per sé una trama interessante è collegata in modo molto lontano alla razza ariana e appunto al nazismo all'ideologia nazista della razza ariana allo stesso tempo diciamo che si ricollega un pochino al mondo dei nativi americani più o meno è fondamentalmente un horror però con elementi sovranaturali legati a culti non è proprio malissimo le illustrazioni qui sono particolari ma secondo me sono molto belle il problema però è proprio dato dalla lunghezza cioè proprio perché è così corto la trama risulta molto superflua o meglio ti trovi davanti a dei punti che ti vengono semplicemente mostrati semplicemente detti però non ne sai di più e vuoi saperne di più però non ve n'è di più ora io questo autore non lo conoscevo guardando su Goodreads ho visto che moltissimi lo hanno definito come una delle opere peggiori di quest'autore proprio per il discorso legato alla trama io mi sento di dirvi che secondo me in generale è carino io mi sento di consigliarvelo acquistarlo non lo so dipende ovviamente anche da come siete predisposti voi cioè solo per le illustrazioni secondo me potrebbe valerne la pena però dovete vedere voi passiamo da un fumetto diciamo in stile americano a un manga passiamo a Hell Baby che ho letto ieri diciamo una trama che secondo me è capitato già di essere riutilizzata mi viene in mente anche Pinguino di Batman abbiamo due sorelle gemelle alla loro nascita però una delle due nasce estremamente malformata sembra un demone e andando avanti ovviamente vediamo che effettivamente non è che sia proprio a posto il padre decide di nascondere al mondo perché è l'unico che lo sa il dottore glielo dice a lui ovviamente figurati se lo dice la madre il padre che è l'unico che sa butta la bambina appena nata appunto con questa malformazione in una in una discarica a cielo aperto praticamente questa discarica gigante dove ci sono cani corvi robe assurde però la bambina inizialmente muore e poi prende vita prende vita con il compito di vendicarsi prende vita ed è qualcos'altro che le dà vita le illustrazioni sono molto molto belle è in bianco e nero nel vibe non non nella graficità perché è molto grafico è un pochino gore ed è comunque un po' di sangue c'è per quanto è in bianco e nero è un manga non è proprio così estremo come magari in altri testi in generale un po' nella storia un po' in come va avanti anche nella sua linearità non per il finale però mi ricorda un po' Piccoli Brividi non so perché vi dico non per il finale perché i piccoli brividi sono sempre stati caratterizzati a questo gigantesco colpo di scena finale proprio plot twist qui c'è un piccolo colpo di scena però concretamente secondo me non è nemmeno così estremo cioè non sono rimasta sorpresa non me lo aspettavo ma allo stesso tempo non ero estremamente sorpresa se ha senso questo ve lo consiglio tanto tra l'altro è veramente difficile almeno nella mia esperienza trovare dei manga così grossi che abbiano così poche tavole per pagina poi ovviamente ci sono alcune pagine dando di più altre di meno però tendenzialmente ci sono proprio sempre tavole minuscole proprio che ti devi mettere lì con la lente di ingrandimento invece è bello vedere un po' di cambiamento e arriviamo all'ultimo titolo in realtà è un racconto che ho letto appunto oggi ed è William Wilson di Edgar Allan Poe eccolo che ritorna qui ritroviamo i leoncini ho fatto diverse recensioni di due o tre titoli di questa singola collana cioè cortoromanzi classici quindi è un testo a fronte io l'ho letto solo in italiano si tratta in particolare della storia di un ragazzo che incontra un suo omonimo che è identico a lui una notte decide di andare a fare uno scherzo perché loro vivono in questo collegio in questa sorta di scherzo insomma fargliela pagare perché gli sta antipatico e da quel giorno cambia tutta la sua vita è relativamente interessante però cioè per quanto sia veramente corto io l'ho trovato noioso ed è strano nel senso che è difficile davvero che io trovi soprattutto in ambito horror qualcosa di noioso quindi detto questo io sinceramente non ho tenuto il conto di quanti libri ho letto dovrebbero essere 11 libri che ho proprio letto come avete visto in realtà poi c'è quello più alto c'è quello più basso è relativo sempre e tra l'altro vorrei anche specificare cioè io so che purtroppo un effetto negativo che mi dispiace però è vero che avviene è che alcune persone vedono questi video un po' si sentono in colpa perché leggono poco io sono una che legge da una vita non vedo una serie tv per intero da non so quanto tempo cioè anche i film io spesso li metto in pausa perché mi passa la voglia e poi lo finisco il giorno dopo quindi ognuno ha il suo ed è questione di pura abitudine detto questo mi piacerebbe in futuro continuare a portare questi wrap up però appunto non a cadenza fissa quando mi capita perché comunque la quantità dei libri che leggo e che non recensisco varia ovviamente e quindi fare un wrap up di cui metà dei libri o tre quarti dei libri sono libri che ho recensito per quanto mi riguarda a poco senso mi sembra ridicolo detto questo fatemi sapere che ne pensate di questi libri che ho letto se di qualcuno di questi avete qualche opinione in particolare volete magari consigliarmene altri anche proprio di questo video della struttura se magari c'è qualcosa in cui vorreste che io mi concentrassi di più o di meno qualcosa che aggiungessi come contenuto fatemi sapere un pochino e niente noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.